Eccoci in Media Plaza, tantissimi volti che vi stiamo facendo conoscere, i volti protagonisti di questo nono congresso mondiale delle Camere di Commercio. Siamo ora con il dottor Fabio Panunzi, Commercial Operation di Linkem. Benvenuto in Media Plaza e partiamo naturalmente dal parlare di Linkem. Dove ci porta dottor Panunzi? Vi porto in un mondo che è quello dei servizi di accesso ad internet a banda larga che in Italia ha purtroppo delle sacche di inefficienze importanti. La nostra azienda offre servizi di collegamento ad internet ad alta velocità, ad oggi principalmente ad una clientela consumer, quindi un'offerta dedicata alle famiglie ma con un importante lancio di un nuovo prodotto a favore del segmento di mercato business e quindi aziendale, motivo che ci ha portato qui a Torino al convegno. Ecco, una parola imperante in Italia rispetto ad internet è proprio il famoso digital divide. A che punto siamo? C'è ancora questo digital divide? La risposta è complicata, nel senso che dipende un po' dalle fonti a cui si va a tinge. Gli operatori cosa dicono? La nostra esperienza è che esiste oggi ancora un digital divide importante, soprattutto per tutti quei distretti industriali, quell'area industriale che caratterizzano gran parte del nostro settore industriale, che risentono oggi della mancanza di un'infrastruttura e di servizi in grado di soddisfare le loro esigenze. Come valuta questo congresso, questa tre giorni vivissima qui a Lingotto? Il nostro è un risultato ad oggi positivo, come dicevo noi stiamo lanciando il nostro nuovo servizio che ha come focus quello delle aziende. Era importante per noi trovare un evento, un momento in cui poter incontrare tutti gli stakeholder del mercato, quindi sia le associazioni di categoria che racchiudono e danno la possibilità alle aziende di esprimersi, le aziende stesse, quindi poter parlare con i clienti, direttamente con i clienti per poter comprendere sempre meglio la realtà verso la quale ci stiamo spingendo, ma soprattutto trovare anche dei partner che ci possano aiutare nel lancio di questo prodotto, quindi nel poter esprimere il nostro massimo potenziale sul territorio. Ed effettivamente il risultato per noi è positivo, abbiamo chiuso delle relazioni, siamo nel procinto di chiudere delle relazioni importanti che speriamo ci diano un'accelerazione. Perché hai deciso di avere una parte in questo congresso? Questo congresso è un'importante occasione per noi per aumentare il nostro progetto nel settore del mercato del mercato del mercato. Abbiamo lanciato un nuovo prodotto che è concentrato sull'interpris e corporazione del business che è il corso del congresso. Quindi speriamo, abbiamo realizzato già un'importante relazione durante questo congresso in order di essere più vicino ai nostri clienti possibili. Grazie a Fabio Pannunzi, Commercial Operations, Linken. Grazie mille. Grazie mille. Bye. Grazie a tutti.